Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Retro Games Show e questo episodio ci dedicheremo al calcio, ma al calcio futuristico Oli Benji ci farà un baffo, perché vedete questo gioco è fighissimo ci sono super tiri, palle che diventano ovali, cambiano colore, si intrecciano, c'è le robe grosse come al solito sei in compagnia di Spike, non c'è corso, strano ultimamente desaparecidos, va bene, non induciamo altro, mettiamo i coin qui si mettono i coin, volete sapere la gana di pubblicazione? no? si, aspetta, nel 1997, no, nel 1992, vabbè, più o meno c'ero allora, e se non c'era capito è un gioco di fight, ma no, l'ho già detto this is more, allora io prendo il mio amato Brasile, io prenderò la fortissima Corea questo non ha preso il secondo player, Corea è bello, c'è un tiro fico giochiamo al chiuso perché fa più scena, dica, dica cosa vuoi sapere? di che casa sviluppo e pubblicazione? è SNK, è famosissimo SNK, ah guardate, noi siamo dei robottoni, cioè dei semi umani tipo, non so, cyborg, semi... ah, tieni premuto, è bravo il tiro se tieni premuto è la barra sopra, il tiro qual'è? quadrato, tanto c'è solo un tasto in questo gioco, se sono io, ok, si, io sono quello verde, questo salto ah, c'è ragione, mi stavo facendo un to go, c'è la barra sopra, stugia, tieni premuto, te la carica, tienilo sempre premuto, consiglio, quello col codino è il capitano, infatti fa il tiro diverso addirittura avete anche, ah a goal, ah, ti самый laser, si infatti a posto del take off se tu tieni premuto il quadrato e dopo lasci la barra al massimo, spara il laser che serve a cosa? un uccidile ai giocatori? si, a posto del take off abbattuto abbattuto se vuoi puoi fare anche sponda, tipo così aio, oddio così vediamo un po vediamo provasciata no che palo bu niente trucco tenere sempre premuto il quadrato appena ti arriva lasci la portata fuori le regole non esistono in questo gioco signor quella la sento silenziosa si stavo leggendo ma cos'è stupido è andato la testata fuori si era il tuo e che abbiamo le maglie molto simili il capitano palo si stiamo giocando è un calcio a sette in pratica ah si c'è scritto che un calcio a sette composta da sette elementi infatti non esiste perché dopo un po che ti picchio con i laser va in sovraccarico il personaggio diventa un po più lento un po più po che viene colpito dai tiri spariamo allora le squadre che sono stati uniti germania inghilterra spagna brasilia italia corea del sud e giappone si crepa si è andata bene si si sono loro e ognuno ha un super tiro diverso vanno diversi a coppia perché tipo spagna e brasilia ce l'hanno uguale mi sembra siiii il portiere va a papera va a papera e tipo corea e giappone lo hanno uguale ti sveglia un altro segreto se ti metti qui no volevo dire se ti metti qui più o meno l'altezza dell'incrocio qua e fai il super tiro quasi sempre segni quasi sempre si molto spesso segni avete due campi il campo giapponese di osaka in erba sintetica del 2055 no perché tirali indietro sto molto oppure nel futuristico super don infatti siamo del super dron di fan di san francisco oggi sono dislessico del 2088 2088 ancora maledetto che siete degli androidi voi siamo c17 dragon ball anche se non mi ricordo se c17 la premio è il maschio c18 la premio comunque se il più schifoso era il ciccione c20 no mamma mia è andata bene la civetta boom siiii cosa sia anche al secondo tempo spero no no in caso ci sono tre diri di rigore se finiti paremmi ma cosa fa ma cosa fa boom no dai e niente questa la vinco io signor prego prego tocca a lei perché adesso muoio bisogna vedere chi è che tutto col quadrato si fa sì sì ma solo quadrato direzionali fine va bene prego dai scelgo la fila sì sì scelgo anch'io una squadra diversa scelgo stati uniti no germania io prendo gli americati gli americati gli americati giocchiamo nell snk stadium in japon allora la barra deve calcolare sempre sempre tenuto prodotto guardato perché ha sempre la barra al massimo così e quando lascia tira esatto io quando sono al petro 6 dovresti essere viola questi e quindi lo ritirati qua si però devi tenere sempre la barra vai lascia esatto se tu la tieni premuta anche adesso mi puoi sparare quando lasci quando non è la palla tipo adesso ah io mi sono preso il mio aspetto anche io boom eccomi eccomi a rimbalzo e non si è preso il capitano questo capitano se lasci fa il super tiro super super tiro puoi anche tirarla lontano perché anzi è meglio ma a me a vicino non si è preso esatto cosa è successo ti ho paralizzato boom come ti ho detto non mi riesce non ci sta capendo nulla tieni premuto dai lascia non ti avvicina troppo si però dritto ah se tu la tieni premuto e indichi dove sono io e poi lasci vedi mi spari no adesso hai sparato super tiro mamma mia mamma mia sembra un ape la divisa germania più brutta del secolo ti ho sparato ecco mamma mia ecco lascia niente crepa dov'è dov'è tu sei la germania adesso basta che fai l'indichi verso la la germania verso la sempre tira sempre ah io il tiro del capitano della germania e il tiro ad s se mentre tu sei il di usa il tiro al doppio s se il uso e getta insomma tira spirale c'era la spagna mentre il tiro al doppio s qui basta guarda che tiri il primo punto interrogativo giappone ma si perché fa così crepa riusciremo fai insomma la squadra la germania è soprannominata ape maglia perché sono bianca e nera come l'ape no cosa t'ha preso manco bubio chi il signor bandus lo ricorda bubio mamma mia la sento concentrato più che altro la squadra estinguo i pupi ah tu sei quelli viola eh ma mi ha dato tutta una confusione sai eh dai eh ho capito che porti gli occhiali da vista spessi quanto no maledetto il tiro al doppio s il famoso tiro al doppio s oddio quello che non fa quello tuo beccate questo no no signorissimo ma volevo sapere un trucco che ho fatto anche questo gioco addirittura c'è il trucco ma ne lo sapevo un trucco infame cioè cioè che qui dici di tenere premuto il pulsante B del giochetti che in questo caso non ce l'abbiamo in modo tale che la cpu salta il computer diventa quasi inoffensivo che bastardo per vincere bellissimo che bastardo perché il mio fuma spiegatemi dopo non so se questa notizia è vera o falsa eh però che bastardo quando io rinvio col portiere schiacciare sempre verso verso la porta mia e tirare bene dovete fare la partita voi due perché? eh perché io ho vinto allora basta fate voi due contro così vediamo due movimentanti allo sbaraglio i Germania hanno vinto i teteschi di Germania si ma hanno un fisico sembrano i coi sembra Schwarzenegger giustamente prego ma lei che è il primo player deve scegliere no giù l'US mode colorato prego scegliete le squadre però bellissimo questa cosa si che bello giochi di una volta che squadre non sono state prese? allora l'Italia è uguale alla Germania il Giappone il Brasile è stato preso? eh? il Brasile è stato preso io la Spagna? ah no la nazione va bene uguale scegliete il campo quello vuoi? quello che ti pare quello vuoi? all'aperto? no chiudo lo Superdome in America sembra sembra tipo la custodiana supposta quasi Brasile Brasile bene bene si te le trasportano io sono quelli ti sei quelli gialli gialli questi qua si vai tieni premuto va giusto lascia quando portieri in via schiaccia sempre verso il lago il quadrato adesso hai fatto bene hai fatto bene può tirare anche a rimbalzo e quindi calcolare anche i rimbalzi si sin geometrico come l'ingegner Baldo tu mi chiedi troppe dritto poi dritto io ho tirato sopra ma non ci ha dato no azione ancora tira quando rinvia oh una cannonata steso mi sono steso da solo super tiro da porta a porta guarda che ci si segna da porta a porta più più tiri da lontano più guarda che roba cosa sto facendo testate su testate qui no eccolo lo sapevo hai imparato il trucchetto ha ignorato fortuna che non è pass questo cos'è 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 non vedo più nulla no perchè il tiro del capitano è più lento eh ma fa schifo il tiro del capitano si fortuna lui che la tira non so che mamma mia il brivido gente che vola ovunque il bello di questo gioco è questo proprio il portiere che vola coi razzi nella schiena ma perchè la tira laggiù eh lascia paralizzato no si tira bene ah dove non dovevi tirare quando non dovevi tirare ad angolo hai tirato ad angolo bene ecco 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 lì mamma mia Leng sarebbe l'inghilterra stava rischiando eh vai 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 dov'è tiro su me l'angola tiro su me l'angola no 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 mamma mia è il portiere perchè sta lì questa cosa non vedo un cazzo non vedo un cazzo scudatone bip vai vai siamo 1 a 0 ci sono ancora quindi un minuto e quindici secondi non so perchè ma a me ha preso voglia di quel gioco quale delle olimpiadi o quella no ti prego no track and field track and field assolutamente è bello beh te prendi un altro gol sicuro devi schiacciare il quadrato verso la bravo in modo che la butti via te ne sono vai 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 paralizzalo sparagli abbattilo vai capitano tira lascia spara tira si è mossa il portiere era dietro la porta per capire come fatto io e ha non fatto l'osso falli bestiali no devi andare più su a livello del cerchietto qui da lì sei disicuro vieni qui vieni qui ahahah vieni qui spari oh lascia spara come uccidere qualcuno no questo sta morendo aiuto non ha proprio capito dove la porta no non l'ha capito ancora ma non importa non importa tira c'ha un bordo e niente va bene direi che può bastare ho vinto tutto può bastare abbiamo mostrato questo bellissimo gioco in cui potrete distruggere i giocatori con gli altri o non capire un accidente detto questo come al solito vi ricordiamo di continuarci a seguire qui su Necco TV altrimenti per cosa ho detto? continuarci ragazzi io sto fuori dovete capire lo lavoro, studio, non ci sto capendo niente continuarci a seguire sì magari altrimenti ci seguite il nostro canale youtube che è continuo eh? videogame salditi che stavi facendo? videogame salditi in cui faremo altri video e altri giochi con questo vi salutiamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao a tutti a tutti